È stata un'emozione unica giocare con uno sforzo in mano tutto l'anno e arrivare qui partendo male e facendo sempre meglio fino a battere una squadra fatta per andare in A1. È un'emozione unica, una cavalcata di due anni che ci ha portato dalla Serie B fino alla Passima Slega. È un'emozione unica. E per concludere, another shot, another kill. Noi siamo felicissimi così, abbiamo raggiunto un risultato unico. Domani sarà una festa sia per noi che per loro perché dopo tanti anni anche loro riescono a tornare dove meritano. Domani sarà una festa. Ci sarà in Paglio qualcosa di importante ma siamo qui per festeggiare adesso. Abbiamo dato tutto, abbiamo lavorato tutto questo anno per arrivare bene qua a questa Final Six. Alla fine abbiamo sbagliato troppo per secondo me nel secondo tempo. Troppo sbagliato secondo me nell'attacco. La defensa abbiamo migliorato tantissimo. Però non riuscimmo ad attaccare bene e a fare gol nell'ultima parte della partita.